Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Will Smith ha deciso di dimettersi dall'Academy dopo lo schiaffo tirato a Chris Rock durante la notte degli Oscar per via di una battuta nei confronti della moglie, Yada Pinkett-Smith che soffre di alopecia Will Smith ha deciso di dimettersi dall'Academy dopo lo schiaffo tirato a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 Per il gesto, avvenuto in diretta sul palco del Dolby Theater a Los Angeles, l'attore rischiava già la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni consentite e l'Academy stessa aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti, il cui verdetto era previsto per il 18 aprile A rendere notte le dimissioni è stata la stessa star di Hollywood, in un comunicato diffuso da Variety Will Smith, mai più la violenza prevarrà sulla ragione.L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei amici e persone care, tutti i presenti e tutto il pubblico a casa Inizia così la lettera con la quale Smith ha rassegnato le dimissioni dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, per via dello schiaffo dato al conduttore rock in seguito a una battuta su sua moglie, Yada Pinkett Smith che soffre di alopecia e si è sentita chiamare soldato Jane L'attore, che è stato premiato con l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in King Richard, ha poi aggiunto che con il suo gesto ha tolto l'opportunità ad altri candidati, ho tradito la fiducia dell'Academy Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario Sono affranco. E ha concluso ancora una volta, così come nelle scuse che aveva rivolto a Chris Rock via Instagram, condannando la violenza Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao